La questione dei saldi è una questione molto delicata. In questi giorni abbiamo assistito a una serie di informazioni errate di inizio saldi per la regione Campania che davano praticamente giorni diversi, questo sia la stampa che anche note associazioni datoriali. Detto questo, il 4 gennaio avrebbero dovuto iniziare i saldi e così non è stato. Infatti oggi c'è stata una riunione alla regione Campania con tutte le associazioni di categoria e fino ad ora non abbiamo nessuna notizia certa. Probabilmente si parla dell'11 gennaio. Una cosa importante che bisogna dire è che noi dobbiamo sapere prima i saldi quando iniziano. Non possiamo aspettare due ore prima o tre ore prima. Anche perché poi le attività promozionali sono già consentite in modo precedente e soprattutto perché dobbiamo consentire a tutti i negozi di sistemare le proprie cose. In effetti semplicemente di preparare la cartellonistica, preparare le vetrine, preparare anche il sito web, quindi con una serie di importanti funzioni che non si possono fare nel giro di mezz'ora. Chiaramente anche coordinare tutte le attività relative al personale in effetti. E quindi oggi io vedo molto anacronistico parlare di saldi. È una legge aggiornata da poco, se non erro a maggio di quest'anno. E' una legge che io non trovo modo oggi che esista perché è una legge che non serve a nulla. Perché i saldi devono essere eliminati completamente. Poiché noi dobbiamo innanzitutto fare una cosa. Cioè permettere all'imprenditore di acquistare e rivendere al prezzo che più gli compete. E' il mercato che poi fa la differenza. Anche perché poi parlando in generale di tutti gli articoli che si vanno a vendere, tutti gli articoli in tutti i siti possibili e immaginabili come nei negozi fisici si trovano al più disparati prezzi. Quindi con questa che cosa voglio dire? Voglio dire che già anche il Black Friday o tutte le attività funzionali che danno tutti quanti l'e-commerce non fanno altro che poi aiutare questa nostra tesi. Inoltre un'altra cosa importante è questa. Cioè immaginate oggi è 4 gennaio. Se fossero partiti i saldi, oggi è l'unico giorno disponibile perché domani e dopodomani andiamo in zona russa avrebbero consentito l'attività di fare cassa. Anche poca cassa ma era importante perché oggi le differenze si fanno veramente sulle centinaia di euro. E quindi una giornata intera destinata alla vendita già con i saldi iniziati era fondamentale per poter prendere un po' di respiro economico.